buongiorno ragazzi benvenuti a questa nuova video lezione siamo oramai in prossimità della contemporaneità con i giorni nostri siamo nella seconda metà del secolo scorso la scuola di francoforte una scuola che nasce nel secondo dopoguerra vedremo tre autori della scuola di francoforte che fondamentalmente affrontano un tema ho messo come immagine delle lucciole un fotogramma di un movimento di lucciole in un bosco perché mi ricorda molto la loro riflessione per certi versi la riflessione che probabilmente farete o avrete fatto in letteratura italiana di pasolini quindi il famoso la famoso articolo sulle lucciole sulla scomparsa delle lucciole di pasolini sul correre della sera che raccontava di come l'omologazione del consumismo della società contemporanea consumistica che ci vede come come clienti consumatori abbia omologato ogni tipo di cultura a sé semplicemente allo scopo di vendere questi prodotti adesso non volevo farla troppo lunga questi autori ognuno in modo diverso ma affrontano la crisi per l'appunto della mentalità illuminista quindi la crisi della ragione diventata ragione strumentale diventata ragione strumentale al potere al potere economico e consumista il primo autore che vediamo è Orkheimer nasce a Stoccarda nel 1895 il tema centrale di Orkheimer per l'appunto il concetto di razionalità mette al centro questo concetto nato anzi nato prima ma sicuramente che ha avuto il suo massimo apice durante l'illuminismo e declina questa razionalità illuministica in due tipi di ragione e prova a studiare a verificare che fine ha fatto la ragione originaria degli illuministi allora innanzitutto gli dice che c'è una ragione oggettiva che è quella dei grandi sistemi filosofici una ragione universale che è una sorta di sostanza universale la ragione che permea tutto che dà senso al tutto pensiamo un po' al logos degli stoici questa ragione oggettiva e poi c'è la ragione soggettiva questa ragione soggettiva che è quella che viene scambiata spesso per ragione è quella che ci porta a determinare l'efficienza dei mezzi cioè è quel tipo di ragione che ci permette di capire se un mezzo è efficiente o meno e quindi questo tipo di ragione cosa fa? che tra l'altro lui dice è la base della società industriale della società contemporanea moderna e consumista risolve la razionalità nella funzionalità cioè ci si è completamente dimenticati, cancellata la ragione oggettiva ed è rimasta la ragione in senso funzionale cioè determinata a servire da strumento della produzione di qualcosa quindi questa razionalità, questo aver fatto credere che la razionalità sia sempre esclusivamente strumentale e soggettiva asserve l'uomo alle esigenze produttive della società senza indagarne i fini semplicemente un asservimento produttivo senza nessun fine secondo l'illuminismo, come vi dicevo, secondo Orkheimer aveva perseguito l'ideale della razionalità l'illuminismo è la lume della ragione, da questo prende il nome però questa idea illuminista è stata segnata al suo interno da una dialettica autodistruttiva cioè perseguire questo tipo di razionalità è stato autodistruttivo per gli stessi fini che si era preposto l'illuminismo ovvero perdita di potere e di controllo su ciò che si realizza nel momento in cui la razionalità serve a finalità produttive si perde il potere di controllare ciò che si realizza non siamo più in grado di capire che cosa stiamo facendo perché lo desideriamo e che cosa stiamo facendo perché la nostra razionalità produttiva è assoggettata alla produzione di beni quindi i tanti dubbi che sono iniziati a esserci e che oggi sono, come dire, all'ordine del giorno delle riflessioni sul fatto se valga la pena vivere per lavorare cioè se valga la pena che effettivamente la produttività, la produzione il produrre beni, il consumarli sia lo scopo quotidiano di ognuno perché questo, dice Orkheimer, ci porta a una perdita di felicità in estrema sintesi questo era il suo pensiero anche Adorno leggermente coevo ma leggermente successivo a Alkheimer nasce a Frankfurt nel 1903 affronta questa idea di progetto illuminista il progetto illuminista che doveva illuminare elementi degli individui ricordate la grande enzicopedie doveva permettere di uscire dall'ignoranza in realtà ha annullato l'individualità la razionalità strumentale persegue esclusivamente logiche commerciali quindi Adorno è sulla scorta, sulla scia di Orkheimer ma lui lo vede anche da un altro punto di vista allora innanzitutto riprende Hegel il caro vecchio buon Hegel che va sempre bene Hegel, se vi ricordate, aveva una fase di tesi una fase positiva, una fase negativa di antitesi e una sintesi che doveva trattenere e rinnovare le due fasi quindi svilupparle lui prende la fase negativa della dialettica perché nella fase negativa, quindi quando poniamo un'antitesi a quella che è la tesi positiva cioè il presentare la ragione come strumentale alla produzione di beni ci rendiamo conto, nel momento in cui le presentiamo di fronte a un'antitesi che l'identità tra ragione e realtà è complessa, è complicata, è contraddittoria ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non torna nella nostra idea di ragione e possiamo così cogliere le contraddizioni della società contemporanea quindi la loro è proprio una critica alla società consumistica contemporanea che vede l'uomo come un mezzo di produzione e di consumo è un'evoluzione un po' dell'alienazione marxista Marx non aveva ancora fatto in tempo a vedere l'uomo come consumatore vede solo l'inizio, la fase di produzione ma l'uomo visto come consumatore è la seconda fase del capitalismo secondo questi autori, quindi dell'età industriale lui si concentra però in particolare sull'apparato dei media perché quando lui comincia a lavorare negli Stati Uniti abbiamo la televisione in Europa mancherà poco perché arrivi abbiamo i giornali, abbiamo le prime forme di pubblicità abbiamo i film che presentano dei modelli e i cinema erano strapieni di persone che li andavano a vedere quindi dice che la cultura è scomparsa perché il potere aveva bisogno di qualcosa che manipolasse gli individui e quindi ha prodotto, sostituendo la cultura, ha prodotto l'industria culturale l'industria cinematografica, l'industria pubblicitaria il consumatore è costretto al suo interno a non essere veramente colui che decide perché viene semplicemente inondato di messaggi che lo portano a credere di avere dei bisogni inesistenti ad esempio il tempo libero il tempo libero che è considerato da tutti una grandissima conquista della modernità, della contemporaneità perché è vero che lavoriamo ma abbiamo anche il tempo libero i nostri antenati si spaccavano la schiena tutto il giorno e quando avevano finito di spaccarsi la schiena andavano a letto perché non avevano la luce elettrica il tempo libero non esisteva ma questa cosa, dice, che è una grande conquista in realtà è un tempo programmato per cui il venerdì sera dobbiamo andare al pub il sabato dobbiamo andare a fare la gita fuori porta la domenica bisogna andare al cinema insomma, il tempo libero in realtà è programmato dal consumismo perché il consumismo ci impone non solo dei prodotti dice Adorno ma ci impone dei modelli di vita che sono pochissimi e sono preconfezionati e noi vi aderiamo mi permetto di dire che Adorno ha sicuramente ragione in questa sua analisi basta vedere le ragazze di oggi sono tutte quante vestite allo stesso modo io quando vado in giro a cercare mia figlia faccio fatica a distinguerla dalle altre 20 ragazze che trovo quando sono in giro a cercarla quindi sicuramente il modello estetico ma che poi diventa anche etico sotto tutti i punti di vista è fortissimo diventa sempre più forte l'ultimo che è anche quello che io considero un po' il cattivo maestro della mia giovinezza purtroppo di cui mi sono liberato troppo tardi è Marcuse Marcuse, Herbert Marcuse nasce a Berlino nel 1898 è un po' considerato il filosofo della contestazione perché è colui che dà delle armi ideologiche fortissime alla contestazione che va dal 68 fino al 77 quindi quegli otto anni, nove anni di contestazione fortissima che poi sfociano nel terrorismo sicuramente fa un'operazione affascinante estremamente affascinante Marcuse nel momento in cui propone una sintesi tra il marxismo quindi tra l'analisi della società vista come alienante e la psicanalisi freudiana cioè l'analisi della società che non accetta i nostri bisogni anzi li reprime la società repressiva per cui poi abbiamo il 68 che è la fantasia al potere l'idea che non nulla possa essere proibito che tutto è lecito quindi la sua analisi analizza, la sua analisi critica vede la società di massa che in realtà sembra essere una società molto libera vista come repressiva perché è repressiva? anche egli utilizza la dialettica negativa hegeliana per fare in modo di evidenziare lo scarto fra la realtà che noi consideriamo razionale e la vera razionalità la nostra, dice, è una società di classe oramai, come dire, staticizzata difficilmente erodibile grazie ai vecchi schemi marxisti è una società repressiva che in più ha cancellato ogni desiderio nelle classi subalterne di cambiarla ha assorbito le classi subalterne nel desiderio di diventare le classi dominanti quindi il proletario non vuole più la rivoluzione per abbattere la borghesia ma vuole diventare borghese perché esattamente come analizza Freud il superiore della società ha assorbito in un atteggiamento morale le pulsioni delle classi subalterne tutte, quindi, le classi sociali sono state dirette al principio della prestazione un termine che assomiglia molto a quelli precedenti quindi gli aspetti produttivi e carrieristici sono diventati gli aspetti fondamentali della nostra società produrre, guadagnare, fare carriera ottenere ancora più beni e più denaro eccetera eccetera in un circolo produttivo denaro merce denaro direbbe Marx è un circolo leggermente diverso ma il concetto è lo stesso in più con l'autorepressione cioè, come dicevo prima il superiore della società ha talmente represso l'uomo che ormai l'uomo ha d'auto reprimersi non si rende più conto che sta accettando che il fine della sua vita non sia vivere ma sia lavorare e produrre quindi capite come è affascinante Marcuse e io, giovane 17enne che trovai per caso in un mercatino di librosati l'uomo ha una dimensione a uno dei suoi testi e lo lessi tutto di fila in un giorno solo rischiai pesantemente di venire coinvolto in questi pensieri perché poi alla fine che cosa dice Marcuse dopo tutta questa reprimenda della società contemporanea consumista afferma che tutti siamo vittime di un'erogazione culturale che aliena l'uomo molto più del lavoro quindi l'uomo non si rende conto che non c'è più differenza per lui fra ciò che è e ciò che potrebbe essere cioè l'uomo non ha più una prospettiva che non sia quella che gli è data per cui lui dice che bisogna liberarsi da questa cosa bisogna combattere questa cosa bisogna distruggere questa cosa che è disumana lui dice che questa cosa non arriverà più dalla classe operaia ma arriverà dal sottoproletariato quindi dagli ultimi degli ultimi e dal terzo mondo in parte anche da questi che lui non aveva ancora previsto ma che arriveranno cioè da una contestazione ideologica fortissima alle basi culturali della società che ci ha omologato e che in realtà porterà sappiamo a ben altra omologazione quindi spero di essere stato abbastanza chiaro sono sicuramente affascinanti questi filosofi e ancora molto attuali benché criticabili sotto tanti punti di vista vi lascio al vostro studio attenzione se leggete i loro testi perché sono estremamente pericolosi però leggeteli buono studio a tutti ci vediamo in classe con chi è mio studente con gli altri bocca al lupo per tu grazie a tutti